La squadra di quest'anno è una squadra che a parte forse diciamo qualcosa in difesa che è mancato perché purtroppo Maximovic se n'è andato improvvisamente indipendentemente dalla nostra volontà però è una squadra che ha fatto 66 gol, è il settimo attacco migliore della storia del Torino abbiamo 50 punti, manca una partita, potremmo farne anche 53 e abbiamo buttato almeno 5 punti con i calci di rigore è un campionato che potevamo tranquillamente arrivare a 60 punti, quindi a 60 punti sei in Europa generalmente quest'anno no perché quest'anno hanno corso moltissimo tutti ma l'anno in cui andammo in Europa il Parma ne fece 58 e arrivò prima di noi e poi non poteva andare in Europa per motivi legati al bilancio molto deficitario per cui insomma direi che noi abbiamo fatto già molto, faremo ancora di più perché evidentemente ci teniamo grazie poi anche al fatto che abbiamo il Philadelphia che ci può dare qualcosa in più